Buonasera, sono Germana De Angelis, Sabrina Minucci e siamo le responsabili del laboratorio Ricuciamo che è all'interno della casa circondariale di Le Bibbia, lì dove sono stati creati questi abiti che vedete nelle fotografie. Per noi è un grande traguardo anche essere qui a questa mostra fotografica che tra l'altro è veramente un gran capolavoro perché dà risalto e fa uscire fuori quello che c'è di buono all'interno dell'istituto, quello che fa vedere che non c'è solo detenzione, non è solo dolore ma può uscire anche qualche cosa di buono. Siamo particolarmente liete di essere ospiti all'interno di questo posto meraviglioso però non vogliamo perdere come sempre l'opportunità di fare un appello a tutti quanti ci vedranno o comunque avranno l'opportunità di vedere questi pochi minuti. Noi invitiamo tutti a contattarci tramite la nostra pagina Facebook a contattarci e comunque anche a vedere cosa facciamo, qual è la nostra attività all'interno del laboratorio Nero Luce del carcere circondariale di Le Bibbia. Sottolineo questo aspetto perché tutti gli abiti che vedete fotografati sono stati realizzati grazie alle donazioni di privati. Per donazioni intendo pezzi di tessuto, lampo, bottoni, gomitoli, tutte quelle cose che magari abitualmente siamo abituati a buttare, noi le recuperiamo e grazie a questo recupero riusciamo a dare di nuovo vita al materiale e anche alle persone perché le ragazze che sono con noi all'interno del laboratorio, grazie a questi materiali riescono a dare sfogo alla loro creatività. E qui dalla mostra il fascino oltre le sbarre. dal 23 al 29 novembre, vi aspettiamo per visitarla. Qui allo stadio di Domiziano. Grazie, aspettiamo di essere contattate sulla nostra pagina Facebook Nero Luce e Madre in Re Bibbia. Grazie a tutti.